E' arrivata dunque l'alta pressione anche al nord Italia, così sul resto della penisola. Alta pressione proveniente dal nord Africa, garante di belle giornate che da nord a sud hanno garantito sole e temperature molto alte, in particolare aumento al nord Italia delle temperature nei valori massimi anche di 6-7 gradi. Ma vediamo nel dettaglio cosa succederà durante questo weekend sul territorio comasco, perché ahimè ci sarà un arresto dell'alta pressione nord africana in particolar modo nella giornata di domenica, infatti arriveranno possibili piogge al mattino e al pomeriggio con parziali schiarite, ma sarà nelle ore serali che arriveranno i primi temporali anche violenti, temperature domani dei valori massimi che toccheranno i 30 gradi, mentre domenica scenderanno di qualche grado attorno ai 28 e anche questa settimanata vi presentiamo il proverbio comasco, quest'oggi sarà Sabina che vi presentiamo proprio negli studi di Ciao Como che sta registrando il GR e quindi ti stiamo disturbando Sabina. Va bene, per due minuti mi distrago. Va bene, allora subito il proverbio della settimana. Un laura della festa, il vendendo della porta, ma il parto è della finestra. Il lavoro fatto di giorno, il giorno di festa, entra dalla porta ed esce dalla finestra, quindi non lavorate questo weekend, andate al mare in montagna, andiamo in vacanza perché durante il weekend non si lavora, giusto? Assolutamente sì, quindi buon weekend a tutti. Buon weekend, seguitici su www.ciocomo.it